no dico ragazzi sono in mezzo all'alaska dopo esattamente 36 miglia mi sono fatto scaricare parto prima c'era veramente era impossibile si rischiava di rompere le biciclette piuttosto che i copertoni dunque non aveva senso sono qua sono emozionato decisamente emozionato l'alaska è questo ragazzi è pazzesco tanta roba tanta tanta sono anche i camion che attraversano l'alto highway per il materiale piuttosto che qualcos'altro ce ne sono paradossalmente anche tanti a Grazie a tutti. Grazie a tutti.